C'è incredulità e sgomento a Ponte Nure e Carpaneto, due comunità unite da un tragico destino, la morte del piccolo Guglielmo Gobbi, il bambino di cinque anni rimasto schiacciato dal trattore guidato dal padre nel pomeriggio di ieri durante alcuni lavori di sfalcio. La tragedia è avvenuta lungo la strada cervellina nel comune di Ponte Nure, dove il papà del piccolo era alla guida del mezzo intento a tagliare l'erba del ciglio stradale, mentre il figlio sedeva vicino a lui sul parafango. Improvvisamente l'attrezzo agricolo ha agganciato un vecchio ponticello di ferro che scavalca il canale a fianco della strada, facendo ribaltare nel fossato il trattore. In un istante il padre si è ritrovato a terra illeso, mentre il bambino era rimasto imprigionato tra il trattore e il terreno. Inutili gli sforzi dei primi soccorritori per tentare di sollevare a braccia il mezzo agricolo, nel vano tentativo di liberare il piccolo Guglielmo. Solo l'autogru dei vigili del fuoco ha permesso di estrarlo. Purtroppo senza esito anche le manovre di rianimazione del personale del 118 e dell'automedica, mentre sul posto era arrivata l'eliambulanza da Parma. Successivamente è iniziato il lavoro dei carabinieri per ricostruire l'accaduto. Sono intervenute le pattuglie di Ponte Nure con il maresciallo Luciano Salatino e i colleghi del nucleo radiomobile. Sul posto anche il maggiore Stefano Bezzeccheri, comandante della Compagnia di Piacenza. Il magistrato Antonio Colonna ha disposto il trasporto della piccola Salma alla camera mortuaria di Piacenza, mentre il padre, come viene in questi casi, verrà indagato per omicidio colposo. La tragedia ha profondamente colpito anche la popolazione di Carpaneto, che ha visto nascere la famiglia e che conosce bene da sempre.